Procediamo con la numero 15, l'ultima, Giannina Mattei, Lia! Un applauso anche per lei. Anche lei, la sua bella forzerella. Di tanto, i ragazzi del service, se possono accomodarsi uno sul palco, grazie. Ebe, Ebe, Ebe. Che dire, tu da dove vieni? Romagna. Lei viene da Lano Maria, beh, il cognome, il nome, insomma, si capiva. Sei qui in vacanza o vivi qui? Vivo qui da qualche anno. Ah, vivi qui da qualche tempo, a quattro anni hai? 25. 25! L'avreste mai detto? Un applauso! Complimenti, sembra davvero giovanissima, io l'ho fatta la domanda apposta, invece forse, eh, forse, forse, tra tutte. Complimenti e buon carlupo questa sera. Grazie. Bene, siamo arrivati in fondo, l'abbiamo conosciuto un po' meglio. Bene, bravi, simpatiche, intelligenti, chi più ne ha più ne ha più.